Questa è quella, per me pari sono a qualità, per me d'un giorno, intorno mi vedo, nel mio cuore, in me non c'erano, meccaduna, che ad altra me fa, la postura, a me dentro, in quattoro, di che progetto nel mio cuore, la vita, in questo di questa, che ad altra me fa, la postura, aравionarsi a una alta, a man lo sarà. Il Sano, senza fondes, alcuna altra, a man lo sarà. Questa è la RDF, che dal 2 di cuore, in me stiavo, Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info